Formazione a cura del Placement Office Career Service dell'Università di Siena. Cosa sono le competenze trasversali? Cosa si intende per soft skills? Perché sono così importanti? L'ultima parte del CV è fondamentale, quella delle capacità e competenze personali. È difficile da credere, ma a parità di titolo di studio, cos'è che fa la differenza tra un candidato e l'altro? Qualunque selezionatore vorrebbe mettersi in azienda una persona per bene, in poche parole. Quindi seria, affidabile, organizzata, positiva, efficiente, gentile, che lavori bene, che stia bene con gli altri, che abbia entusiasmo. Anche tu vorresti lavorare con una persona così. È come dimostrare che sei tu il candidato ideale, come esprimerlo nella maniera giusta, nel curriculum vitae, nella lettera motivazionale o al colloquio. Parliamone. Fai con noi un bilancio delle tue competenze. Chiedi appuntamento inviando il tuo curriculum a cristina.rubegni.unisi.it Inizia a farti e aiutaci a fare un buon vocabolario delle competenze su Twitter. Hashtag una competenza al giorno. Grazie. 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 Grazie.